Amici, bentornati nel nuovo video sul secondo canale. Prima di iniziare ci tengo a dirvi un paio di cose. La prima è di iscrivervi al primo canale perché molti guardano i video ma non sono iscritti. Di lasciare un mi piace e attivare la campanellina iscrivendovi a questo canale. E l'ultima cosa, nel video degli arredamenti mi avete detto che vi ho, diciamo, presi in giro perché stavo facendo vedere una mod. Non è una mod ragazzi, tutto quello che faccio vedere e non dico che è una mod Sono delle aggiunte che possono essere fatte su Minecraft tramite degli stratagemmi che vi ho lasciato in descrizione negli ultimi video. Quindi andatevi a vedere quei video ragazzi perché spiego tutto. Non sono comunque delle mod. Anche ciò che vedremo oggi non è una mod. Ma partiamo subito vedendo le fornaci. La prima fornace che è potente due volte la fornace normale è la fornace di ferro che si crafta nella crafting table ovviamente mettendo un pezzo di fornace al centro contornato da lingotti di ferro. E questa è la prima fornace che piazziamo, la mettiamo tipo qua davanti. La seconda fornace è la fornace d'oro che si crafta mettendo una fornace di ferro contornata da lingotti d'oro. Quindi prendiamo questa e la mettiamo da questa parte qua. La stessa cosa è la fornace di diamante, è una fornace di oro contornata da diamanti. Quindi facciamo questa. E la fornace finale, la migliore, la più potente è l'extreme fornace. Questa fornace qua si crafta mettendo una nether star ed è 20 volte più potente di una fornace normale. Guardate un po' questa 4 volte, questa 8 volte, questa 20 volte. Se vedete che un pochino si bug a volte è normale, non vi preoccupate. Ma adesso andiamo a provare. Prendiamo un pochino di coal, prendiamo dell'iron da cuocere, da smeltare e ci proviamo. Ne mettiamo 64 da questa parte, vedete quanto è più veloce. Guardate, ne mettiamo uno. Guardate quanto è veloce! È due volte più veloce di una fornace normale. Adesso vi faccio vedere che prendendo la fornace normale è effettivamente molto più lento. Guardate, mettiamone qua un po'. Mettiamo qua 8. Vedete che è molto più lento, questa è molto più veloce. Adesso io direi che proviamo a farne un po'. Mettiamo sotto le fornaci qua, mettiamo la gold. Guarda, vabbè, la gold è velocissima amici, ma che è fantastico. Mettiamo anche quella di diamante. Beh, quella di diamante pure è clamorosissima ragazzi. Guardate che roba! Invece questa che è 20 volte... Vabbè, questo qui secondo me scatta e li fa subito tutti. Proviamo. Un, due, tre. Boom! No, vabbè, non ci credo. È fantastica questa cosa! E questi fornaci le potete aggiungere nel vostro mondo vanilla, molto tranquillamente scaricando il datapack che è nella descrizione. Ad ogni modo, ricontrolliamole una a una. Questa va lentissima, ne ha fatti 4. Questa ne ha fatti 14. Questa va veloce, ne ha già fatti 22. Questa 46 e questa ha finito. Eh, questa ha già finito. E mi sono dimenticato di dirvi che, essendo molto più veloce la fornace, spreca molto, molto meno carbone. Per questo video, amici, è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete altri video del genere e scrivetemi che cosa vorreste vedere per i nuovi blocchi di Minecraft che mi informerò se esiste qualcosa che si può aggiungere nella versione 1.14. Ricordatevi che la 1.14 non ha necessità di... Vedete che non ci sono mod. Qua non c'è scritto mod, fabbriche, niente. È 1.14. Quindi, niente. Ciao a tutti.